Beh, noi facciamo musica strumentale, però ogni tanto ci piace divertirci e fare un po' di sogno. Penso che proprio lo conoscete tutti. Ti do questo, Dio. Questi rompicoglioni dei cantanti. No, la scuola di Napoli è James Enese, Zabitabile, Pino Danieri, Napoli Centrale, insomma. Io stasera veramente ho conduto tantissimo, secondo me avete fatto musica meravigliosa. Vorrei un applauso bellissimo per il fatto l'altro. Quindi da Napoli, grande musica e soprattutto persone umane e simplicamente fantastiche. Essendo cantante, rompicoglioni un po' di spia. Non, 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 non. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione